Il giorno 15 agosto, data ben definitiva, 2020, guardo questo disegno, le mie case di campagna, quanto tempo ho percorso quest'estate nelle varie valli lombarde, quanti luoghi ho conosciuto. Dopo il lockdown del 15 maggio, per tre mesi, fino al 15 agosto, non stop, non stop di passeggiate, di luoghi nuovi, lombardi, al Lago Maggiore, al Lago di Como, nelle varie valli della Valtellina, diverse valli lombarde, sono riuscito a non fermarmi per tre mesi. Oggi è il 15 agosto, mi chiedo, Aldo, posso fermarmi? Rendere un punto stabile, cercare un centro di gravità permanente? No, no, io invito tutti i miei amici, oggi, oggi alle 11.52, sono alla stazione di Porta Garibaldi, 11.52, chi vuol venire con me, venga pure, venga pure con me, che andiamo ad Abadia Larianna, alla spiaggia che c'è lì, bellissima in quel paese, o alle cascate del Schengen. Io auguro oggi che venite con me, alle 11.52, chi vuole mi scrive il commento in fondo a questo canale, ho piacere, lo spetto Porta Garibaldi, se proprio fosse in ritardo la codesta persona o codesti amici, vi aspetto alle 13.31 per il Lago Maggiore, Gallarate, Laveno, Calde e Porta Valtravaglia, Colmeglia. Io vi aspetto a Porta Garibaldi, dopo un'estate di tre mesi, oggi, oggi, 15 agosto 2020, senti, ritorno, non mi fermo, continuo il mio viaggio da essere un girovago, un viandante, e scrivetemi in fondo al commento, chi vuole partecipare oggi alla mia gita. Vado, vado, dopo 1300 YouTube, 1300 video in questo canale, ho raggiunto quasi 100 iscrizioni tramite conoscenze di persone. Io vi ringrazio e guardo il cielo di oggi, bellissimo, bellissimo, una bella estate. È stata veramente tre mesi, nonostante certe piccole difficoltà, ma piccole, mal di piede e altre due cadute in montagna. Mi sono risollevato, ho avuto la coraggio di affrontare di nuovo l'estate. La mia bella estate ricorderò per sempre l'agosto 2020. Aldo, un saluto!